Operazione dei carabinieri forestali del nucleo CITES di Salerno e delle guardie EMPA in località Petruccia di Eboli al fine di salvaguardare la vifauna migratoria. Nello specifico i militari hanno pizzicato alcuni cacciatori che si aggiravano lungo le rogge nonostante la caccia agli anatidi fosse ancora chiusa. Uno sparo proveniente da un terreno ha attirato l'attenzione degli operanti che hanno subito notato un cacciatore che prelevava l'animale abbattuto. A quel punto i carabinieri forestali e le guardie sono usciti allo scoperto e hanno accertato l'abbattimento fuori periodo di un alzavolo. Fortunatamente il rapido intervento ha evitato che altri anatidi fossero abbattuti in periodo non consentito. Il soggetto fermato è stato deferito all'autorità giudiziaria competente.